Gli eventi in JavaScript. Ciao, io sono Michele e in questo video ti spiego che cosa sono gli eventi in HTML e JavaScript per portare la tua programmazione web a un livello successivo. Da un punto di vista teorico, gli eventi HTML sono cose che succedono in una pagina web e quando utilizziamo il JavaScript abbinato nelle pagine HTML possiamo reagire a questi eventi. Possiamo catturare tantissimi tipi di eventi all'interno delle nostre pagine HTML come per esempio ho finito di caricare la pagina, è stato cliccato un pulsante ovviamente e il test all'interno di una casella di input è cambiato per esempio. JavaScript ci consente di metterci in ascolto di questi eventi, si dice proprio ascoltare oppure anche iscriversi a questi eventi e far accadere qualcosa in reazione a un determinato evento. Il codice che si scrive per reagire a un evento è una funzione e ti invito ad andare a rivedere se ne hai bisogno il video dedicato alle funzioni in JavaScript. Entriamo quindi nel nostro video, ho già caricato qui il solito sito di esempio che utilizzo sempre in questa serie di video e andiamo a sperimentare con i nostri eventi. Innanzitutto prima un po' di generalità, allora faccio un po' di pulizia qui, vediamo la sintassi generica per iscriversi a un evento, è qualcosa del tipo abbiamo un elemento, element event, nome dell'evento, uguale un po' di javas, così, un po' di javascript, forse ce la facciamo, eccolo qua, è arrivato. E vabbè, poi chiudo l'elemento, quindi così. Come per esempio abbiamo proprio qua sopra, button on click, andiamo a fare javascript. Andiamo a ripetere banalmente questo esempio qui, facciamo un pulsante, gli chiediamo che dimmi la data è ora e ce lo facciamo scrivere. Quindi facciamo un button all'evento on click, scriviamo document.getelementbyid, ci troviamo qui, guarda, lo vado a scrivere nel paragrafo qua sopra, quindi l'id che mi serve in questo momento è tutorial, lo sparo qui, prendo l'inner html e lo sostituisco con quello che è la data ora attuale, chiudo i doppi apici e chiudo qui e mettiamo che ore sono, benissimo. Passo nel mio browser, faccio ok, refresher già pronto, che ore sono, abbiamo la data in formato più che è stesa, super dettagliata e posso continuare. E viene presa l'ora del computer. Quindi abbiamo creato un pulsante che cambia l'inner html, uno degli output, uno dei modi con cui possiamo fare output, l'abbiamo visto nel video precedenti, uno dei quattro modi che possiamo fare output con html e andiamo a cambiare il contenuto di questo P. Potrei anche cambiare il contenuto di me stesso utilizzando l'operatore this, faccio tipo se io qua mettesi this, cioè me stesso, l'oggetto su cui si scatena l'evento, salvo, mi ricarico la pagina, che ore sono, vado a sostituire il testo qui, vabbè, giochetto stupido. Dicevamo prima che molto probabilmente quello che andiamo a scrivere deve essere una funzione, ok, perché di solito le righe di codici che ci servono per reagire con qualcosa di sensato a un evento sono un po' di più, quindi quello che qui metteremo sarà una funzione. Facciamo un esempio display date, ci inventiamo una funzione che restituisce una data. Ora questa funzione non esiste da nessuna parte, ce la siamo appena inventata noi, quindi dobbiamo dichiarare, dichiararla, firma e tutto, corpo e dichiarare che esiste da qualche parte. La mettiamo qui sotto, ok, facciamo script function display date, display date, forse ce la faccio, non ha parametri, quindi vado direttamente, apro le graffe, è esattamente quello di prima. document.getelementbyid, mi piglio il tutorial.innerhtml ed era date. Salvo tutto, torno nel browser, faccio F5 e abbiamo lo stesso identico risultato, solo che in questo modo è più corretto e più elegante, perché non abbiamo il codice schiantato qui, ma dedicato in una funzione. Facciamo una prova con un altro tipo di evento, poi vi elenco i più comuni e infine metto un link in descrizione a tutti gli eventi ufficiali dell'HTML, è una lista lunghissima e ci metteremo un'ora solo per leggerli tutti. Facciamo per esempio al on mouse over, che quindi significa quando il pulsante passa sopra qualcosa, facciamo l'on mouse over qui sull'intestazione bella grande che è facile da beccare, quindi on. Vedete, quando scriviamo on, se abbiamo uno strumento di sviluppo abbastanza intelligente, come Visual Studio Code ci fa una serie di proposte, vediamo tutti gli eventi appunto on mouse over e qua mettiamo la stessa cosa, facciamo display date, riutilizziamo la stessa funzione, salvo, ricarico la mia pagina web e attenzione, non appena sono andato sopra, perché l'intestazione sostanzialmente occupa tutto virtualmente questo spazio qui, e se si è scatenato l'evento faccio refresh e ci vado sopra. Eccoci qua. Dal punto di vista tecnico gli eventi finiscono qui, la spiegazione degli eventi finisce qui, vediamo alcuni esempi reali che possono succedere. Ok, quindi può essere cose che devono essere fatte ogni volta che si carica una pagina, poi quando la pagina si chiude, magari chiude ogni volta qui sopra, ogni volta che si carica una pagina, per esempio, che non so, vogliamo inizializzare qualcosa, o quando la pagina si chiude vogliamo essere sicuri di liberare risorse o fare della pulizia da qualche parte, azioni su pulsanti, al click ovviamente, oppure verificare, molto 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 frequente e assolutamente da fare, verificare input utente quando vengono compilati dei form o dei campi. Ok, per esempio dobbiamo scrivere una... c'è un campo che, ne so, il codice fiscale, sappiamo che non deve essere più lungo di 16 caratteri, e quindi possiamo fare dei controlli su un campo di testo che non sia più lungo di 16 caratteri, per esempio, o anche altre regole più complesse. Bene, ottimo, siamo arrivati in fondo anche a questa parte. Gli eventi sono sicuramente una parte importante della programmazione e permettono di fare un passo in avanti notevole, sono usatissimi, anzi direi fondamentali. Se questo video ti è piaciuto e hai imparato qualcosa di nuovo, metti un mi piace, iscriviti al canale, così sarai notificato quando esco un nuovo video. Ciao! Ciao!